Credo il primo esempio di evento politico rilevante ripreso da una macchina da presa e quindi con tutta la grazia di questa cosa ma anche la difficoltà perché le riprese per esempio in interni si vede che la pellicola era cosa molto poco sensibile. Non è un caso che ci sia una frattura generazionale anche profonda, i comunisti sono i giovani, la federazione giovanile socialista entra quasi interamente nel nuovo partito Grazie per la visione 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 Grazie per la visione